Negli ultimi mesi è stata annunciata la separazione tra Tommaso Trussardi e Michelle Unziker, infatti li abbiamo visti poi durante l'estate impegnati in flirt. Se abbiamo visto Michelle Unziker insieme al dottore Giovanni Angiolini, Trussardi invece era in compagnia di una giovane manager. Ma nelle ultime settimane c'è una voce che diventa sempre più insistente, ovvero che i due si stanno riavvicinando. E tra queste c'è la voce anche di Vittorio Feltri, che dice che conosce bene la famiglia di Trussardi, che conosce i suoi genitori fin da quando erano bambini, fin da quando avevano nemmeno dieci anni, che conosce bene Tommaso e l'elogia tantissimo dicendo che è un bravo ragazzo, che è un ragazzo pulito, un ragazzo intelligente, che non si capacita del fatto di come Michelle Unziker abbia potuto sostituire Tommaso Trussardi con un dottore palestrato come Giovanni Angiolini. E dice, forse non è che adesso Michelle si sia resa conto di aver scambiato la bottiglia del vino buono con la bottiglia del vino cattivo? Bene, e voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto.